Il picco di forma era tutto indirizzato per i mesi di aprile e maggio, dal Trentino al Giro d'Italia. Poi all'inizio i programmi erano quelli di staccare subito dopo il Giro d'Italia e di fare la settimana di stacco nel mese di giugno. Invece poi la squadra ha deciso di farmi tirar dritto, mi hanno fatto correre Lugano, l'Adriatica Ionica e poi il campionato italiano. Quindi ho corso ancora un mesetto e poi adesso sto facendo la settimana di riposo. L'anno scorso è stata una stagione un po' difficile, dopo le operazioni è stato un anno un po' particolare dove avevo perso diversi mesi. Quindi ero arrivato al Giro di Lombardia completamente scarico e mi ero ripromesso di fare un inverno fatto bene, una stagione fatta a tutta. Di fatti ho staccato poco, ho fatto solo 15-20 giorni di scarico tra una stagione e l'altra e sono partito subito a tutta con un inverno fatto bene. Quando fai una base importante i risultati li vedi subito e la differenza c'è stata sin da subito. Poi negli ultimi anni le stagioni iniziano sempre prima e finiscono sempre dopo, quindi ci sono corridori che finiscono di correre a novembre e iniziano a correre a gennaio. Il periodo di stacco invernale si è praticamente minimizzato di tanto, quindi non è facile recuperare bene e gestire la nuova stagione. Purtroppo la critica c'è sempre, c'è stata e continuano a farmere per il modo di correre. Però sono anche l'idea che sbagliando magari si impara e degli errori che fai adesso, magari in un'occasione futura cerchi di non ripeterli. Però l'istinto del corridore quando sei lì ti parte da dentro e penso che nessuno può controllarti o dirti è presto o è tardi.